Ciao! Ciao a tutti! Mi presento, io sono Jamie Bamba. Jamie Bamba mi trovo qua, nel mio proprio giardino, qua a Los Angeles, e devo dirvi una cosa, una cosa molto difficile per me, perché devo chiedervi le mie scuse. Allora, speravo, speravo tantissimo di poter venire, vedervi tutti a Ferrara per assistere al Galacticon 2011, però purtroppo ci è accaduto qualcosa, una cosa molto seria per me, una cosa che viene sommata da una parola, una parola sola, lavoro, molto negativo per la maggior parte del mondo, ma per me è molto necessario in questi giorni. Il lavoro per me è stato sempre come aspettare gli autobus rossi a Londra, si aspetta per delle ore e non viene nessuno, poi tutto di una colpa, ne vengono tre. È stato così adesso. Però, volevo farvi una promessa, che l'anno prossimo, l'anno prossimo, verrò sicuramente, vi giuro, a Ferrara, anche se devo prendere uno di quegli autobus rossi, come Cliffwitcher, vero a Ferrara, vi giuro. Io adoro l'Italia, è per questa ragione che ho della sfortuna a dirvi tutte queste cose, che volevo tantissimo venire. È una grande, grande... è veramente un ragazzo, in francese. È per questo che ho messo gli occhiali. Per voi italiani che portate sempre gli occhiali, no? È così, oggi giorno, così. Tutti i giorni gli occhiali. C'è sempre il sole in Italia, come Los Angeles, e dunque gli occhiali. Però io sono inglese, e non ho messo mai gli occhiali. Però mi piace tanto un po' di espresso. Ah, che bello! Ogni pomeriggio comincio con un piccolo espresso per invigorarmi. Io adoro tutte le cose italiane. Voi siete raffinate, eleganti. E noi gli inglesi sono... sono delle bestie. Siamo delle bestie. Io da ragazzo sono sempre stato affascinato della vostra cultura, la vostra lingua, la vostra gente. Ho studiato l'Italia. L'italiano a Siena, a Bologna, a Pavia, al Ghizieri, a Pavia. E il mio italiano è molto indebolito in questi giorni, molto debole. Come udite? Forgive me for that. But... come si dice forgive me? Non me ne ricordo. Perdonatemi per la debolezza del mio italiano in questi giorni. Però è per questa ragione che voglio andare in Italia a Ferrara per parlare un po', per praticare il mio... la mia lingua. Dunque, devo andare adesso. C'è... è l'ora della... per... per... della finita della scuola. Devo andare a prendere i miei... i miei piccolini. E dunque, devo dire ciao... e mille scuse... e all'anno prossimo. Ciao, ciao.